numero 5 è fatto di vetro acrilico che permette la massima sicurezza e lo rende completamente infrangibile la sua struttura è fatta di plastica nera e si adatta perfettamente con una cintura e una fibbia di alta qualità in modo da poter garantire la massima sicurezza può essere facilmente regolato a 360 gradi in modo da poterlo girare e metterlo perfettamente a fuoco per avere una visione completa in ogni momento è facile da installare e rimuovere ed è adatto a tutti i tipi di poggiatesta regolabili acquista questo prodotto con il link che trovi in descrizione numero 4 questo è uno specchio per bambini di ottima qualità che è fatto di plastica resistente e infrangibile che vi permetterà di avere una grande resistenza a un sistema di rotazione a 360 gradi che permette di cambiare facilmente gli angoli di visualizzazione in modo da essere sicuri di concentrarsi perfettamente sul bambino è molto facile da usare a tre diverse opzioni di presa le sue cinghie sono molto facili da mettere e togliere il che garantisce un grande comfort durante il suo utilizzo trovi il link di questo prodotto in basso nella descrizione numero 3 si tratta di uno specchio completamente infrangibile che garantirà che la sicurezza del vostro bambino in ogni momento ha un telaio leggero e resistente con doppie cinghie regolabili che permettono di tenerlo completamente in posizione in modo sicuro si adatta facilmente a qualsiasi tipo di poggiatesta e non scivola fuori posto o traballa affatto offre una rotazione di 360 gradi che permette di posizionarlo in modo molto comodo è molto facile da montare e viene anche fornito con un cartello baby on board da mettere sul finestrino posteriore dell'auto in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto numero 2 ha un design convesso e cristallino che fornirà un'ampia visione del sedile posteriore dell'auto in modo da poter avere una visione completa del vostro bambino grazie alla sua cerniera rotante a 360 gradi può essere regolata per avere una visione perfetta del vostro bambino durante la guida è un modello che viene fornito completamente assemblato la sua installazione è molto facile e veloce e si adatta molto facilmente a tutti i poggiatesta di qualsiasi auto ha un sistema di cinghie rinforzate per evitare che lo specchio cada e può essere installato in due modi diversi a seconda del tipo di sedile in cui lo metterete se ti interessa questo prodotto vuoi sapere il suo prezzo clicca il link in descrizione in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto su amazon numero 1 è uno dei migliori specchi per bambini che si possono trovare sul mercato soprattutto perché è un modello che è completamente infrangibile vi permette di mantenere sempre il contatto visivo con il vostro bambino in modo ottimale è abbastanza grande perché possiate vedere completamente il vostro piccolo il che vi permetterà di vedere tutto ciò che è importante senza avere una grande distrazione garantendo così la massima sicurezza è molto facile da usare e installare ed è pronto all'uso in pochi minuti non c'è bisogno di alcun tipo di regolazione permanente grazie a un giunto sferico fisso puoi vedere il prezzo di questo articolo cliccando nel link in descrizione